ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vi vado a mostrare questa paletta spatolina da staglio ideale per chi si diciamo diletta a preparare delle pizze o del pane quindi quando andate a formare dei panetti è davvero utile l'ho acquistata al prezzo di circa 3 euro su aliexpress ma se volete acquistarla su amazon con una spedizione molto più veloce la trovate a poco più di 3 euro quindi vi lascio entrambi i link in descrizione e ve la vado a mostrare devo dirvi che c'è la versione grande che questa che ho acquistato da 21 cm di lunghezza per 9,9 di larghezza mentre c'è anche quella un po più piccolina da 20 cm sempre di lunghezza siamo quindi vicini al formato grande l'unica cosa che cambia è che la parte qua si restringe quindi abbiamo 7,2 cm di larghezza come vedete oltre la parte in legno che è molto ben fatta devo dire che c'è anche questo scalino che permette quindi di prendere bene il panetto quindi non solo andate ad effettuare diciamo il taglio ma riuscite anche a prenderlo bene lo spessore davvero millimetrico non è troppo flessibile quindi è bella rigida e devo dire che è davvero un bel prodotto ve lo consiglio link in descrizione se avete qualsiasi domanda non esitate a porla